Il verbo videor. Noi conosciamo il verbo video. Video, vides, vidi, visum, videre. Che significa vedere, guardare, osservare. Ora, questo verbo ha il passivo, giusto? Quindi il passivo è videor, videris, visus, sum, videri. E quindi, anzitutto, dovrebbe significare essere visto, essere guardato. Io sono guardato, videor, io sono guardato. Di fatto, però, questo verbo al passivo si traduce il 10% delle volte sono guardato. Il 90% delle volte si traduce io sembro. Anche perché, del resto, non c'è un altro verbo, il latino, che equivale al nostro italiano sembrare. Il nostro italiano sembrare si traduce col passivo di video, quindi con videor. sembrare, parere, ecco. E' un verbo importantissimo, tra l'altro. Ora, questo verbo ha due costruzioni. La costruzione personale e la costruzione impersonale. La costruzione personale ricalca la costruzione personale dei verba dicendi, iubendi, che abbiamo visto la volta scorsa. I verbi di dire, di comandare, eccetera. E qui possiamo fare lo stesso giochino che abbiamo fatto la volta scorsa. Cioè, prima fare una traduzione letterale. Accorgerci che questa traduzione letterale è molto impossibile da lasciare in italiano, perché non corrisponde all'uso corretto, non è conforme all'uso della lingua italiana. E quindi siamo costretti a fare una traduzione diversa. Ad esempio, in italiano il verbo sembrare non si costruisce personalmente, ma si costruisce impersonalmente. E quindi quando noi abbiamo la costruzione personale, dobbiamo volgerla in impersonale in italiano. Leggiamo tutti questi esempi. Omnibus videris esse beatus. Tu sembri a tutti essere felice. Che è meglio però tradurre in italiano, a tutti sembra che tu sia felice. A tutti sembra che tu sia felice. Quel sembra in italiano rimane sempre la terza persona, quindi è impersonale. Invece in latino, come vedete, è anche la prima e la seconda. Severi fuisse vide bimini, voi sembrerete essere stati severi, è la traduzione letterale. Voi sembrerete, sì perché questo è il futuro, sembrerete vide bimini. Essere stati fuisse severi. Si traduce meglio in italiano, sembrerà che voi siate stati severi. Quindi vedete, anche qua c'è una seconda persona che deve diventare per forza terza singolare. In italiano dobbiamo costruirlo impersonalmente la terza singolare. In italiano regge una frase, una frase soggettiva ovviamente. Sembrerà che voi siate stati severi. Un'altra frase latina. Mi dormire videris. Tu sembri a me dormire. Mi sembra che tu dorma, dobbiamo invece dire in italiano. Ostes profetti esse vide bantur. I nemici sembravano essere partiti. Sembrava che i nemici fossero partiti, invece la traduzione migliore in italiano. Vobi serraturi esse vide mur. Sembriamo a voi essere per sbagliare, stare per sbagliare. Anzi perché noi in italiano non abbiamo l'infinito futuro. E quindi usiamo una perifrasi che però è assurda, ancora più assurda se vogliamo. Quindi noi diciamo, vi sembra, quindi dobbiamo volgere sempre all'impersonale, a voi sembra, che noi sbaglieremo perché quell'infinito futuro rende la posteriorità, rispetto al presente, la posteriorità italiana si rende quel futuro semplice. Leggiamo due frasi di Cicerone. Videor mii satis deprobitate dixisse. Letteralmente significa io sembro aver detto, io sembro a me stesso, aver detto abbastanza, aver parlato abbastanza dell'onestà. Ma dobbiamo tradurlo invece in italiano, mi sembra di aver parlato a sufficienza dell'onestà. Nunc vi demur abituri es seducem, un'altra frase di Cicerone. Letteralmente significa ora noi sembriamo stare sul punto di avere, stare per avere un comandante. Ma poi in italiano è meglio tradurlo, ora ci sembra che avremo un comandante. Ci sembra che avremo un comandante. Bene, allora la costruzione impersonale. Ecco, diciamo che i latini usano il 75% delle volte la costruzione personale. E solo il 25% delle volte la costruzione impersonale. Tuttavia, noi abbiamo visto che in italiano usiamo la costruzione impersonale. Quindi la costruzione impersonale, che viene usata più raramente in latino, è più vicina all'italiano. Poi, un'altra cosa importante, la costruzione impersonale in latino la si trova solo in casi specifici, solo a certe condizioni si trova la costruzione impersonale. Altrimenti prevale la regola, che in latino è quella della costruzione impersonale. Cioè, insomma, la costruzione impersonale, videor usato alla terza persona singolare, come in italiano, videatur, videbatur, e visum est, se è perifrastica, l'impersonale è sempre al neutro. Visum est, visum erat, eccetera. Seguita da un infinito o una proposizione infinitiva soggettiva, ovviamente, come in italiano, esattamente come in italiano. Quindi c'è la soggettiva, certamente la soggettiva, diciamo che in latino è un accusativo più infinito, giusto? Quindi è una proposizione infinitiva. Però videor può essere seguito anche dal semplice infinito, non è detto che ci sia per forza un'infinitiva. Può esserci anche un semplice infinito. Allora, vediamo quali sono questi casi. Ci sono quattro casi in cui c'è la costruzione impersonale invece della costruzione personale. Primo, quando videor è accompagnato da un aggettivo neutro. Ecco, videatur utile, videatur facile, videatur difficile, videatur hardum, vi detur mirabile. Sembra utile, sembra facile, sembra difficile, sembra arduo, sembra difficile, mirabile. In questi casi abbiamo la costruzione impersonale. Fare ciò sembrava facile. In latino si dice Oc facere facile, facile videatur. Cioè, è come in italiano. Ecco, qui la traduzione letterale la si può fare, no? Perché è giusta e corretta anche in italiano. Mentre nel caso della costruzione personale non potevamo fare la traduzione letterale perché era scorretta in italiano. Invece, in questo caso, la traduzione letterale va benissimo, no? Perché è corretta in italiano. Poi, secondo caso della costruzione impersonale in latino. Quando video ha valore deliberativo, significa sembrare bene, sembrare opportuno. Questa volta l'aggettivo neutro è sottinteso, no? Anche se è sottinteso, significa sempre quella cosa lì, cioè, sembrare bene, sembrare opportuno. Anche in questo caso possiamo trovare la costruzione impersonale in latino. Sic dis visum est, così sembrò opportuno agli dèi, così sembrò bene agli dèi. Ecco, qua non c'è problema. La costruzione impersonale la si traduce letteralmente. Ah sì, l'unica cosa è questa. Qui c'è una difficoltà in più, però. Noi dobbiamo capire che ha questo senso, che ha questo significato e dobbiamo aggiungere bene e opportuno. Perché là, nel primo caso, l'aggettivo neutro c'era, qua invece è sottinteso. Capite? Quindi c'è una difficoltà in più nella traduzione in latino. Dobbiamo aggiungere, sembrare bene, sembrare opportuno. Poi, quando è seguito da verbi ed espressioni impersonali, può darsi quindi che il video, che è sembrare, regga un qualche cosa che è impersonale. Allora, questo impersonale, questo verbo impersonale, retto da videor, rende impersonale anche videor. Ad esempio, potrebbe essere impersonale, che ne so, una perifrastica passiva impersonale, no? Vi ricordate che anche la perifrastica passiva poteva essere costruita personalmente o impersonalmente. Era impersonale quando non c'era il soggetto della perifrastica passiva. Il soggetto, però, ricordate, della perifrastica passiva, non è chi deve fare l'azione. Perché chi deve fare l'azione viene reso col dativo d'agente. Esaminiamo questa frase latina. Mi vi detur nobis proficiscentum esse. La traduzione letterale di questa frase, improponibile, è la seguente. Mi sembra, e questo va bene, che da parte nostra si debba partire. Nobis, infatti, è un dativo d'agente. È chiaro che, come abbiamo spiegato, tutte le volte che c'è il dativo d'agente, la perifrastica passiva la dobbiamo sempre volgere l'attivo. Quindi, col verbo dovere, è il dativo d'agente diventa soggetto. E così possiamo tradurre molto più linearmente questa frase. Mi sembra che noi dobbiamo partire. Mi sembra che dobbiamo partire. Oppure, è impersonale in locuzioni incidentali del tipo Ut videtur, come sembra. Ut videbatur, come sembrava. Si ti bi videtur, se ti sembra. Ad esempio. Recte d'existi ut mi videtur. Recte ut mi videtur d'existi. Hai parlato bene. Come mi sembra? Hai parlato bene. Come mi sembra? Leggiamo anche gli esempi d'autore. Ad esempio. Mi ardum videtur res gestas scrivere. Dice Sallustio. Mi sembra difficile scrivere, quindi mettere per iscritto le vicende storiche, le imprese. Res gestas. Qui c'è il primo caso, quando il videore insieme a un aggettivo neutro, come ardum. Poi, secondo caso. Mi sembra opportuno. Lo vediamo con Cicerone. Ora mi è sembrato opportuno scrivere qualcosa sulla vecchiaia. Non mi visum est. Mi è sembrato opportuno. Opportuno lo dobbiamo aggiungere. Non c'è in latino. Mentre invece il difficile di prima c'era già in latino. Poi, terzo caso. Quando è seguito da verbi e espressioni impersonali. Mi videtur de generi belli est dicendum. Dice Cicerone. Letteralmente, intraducibile. Mi sembra che si debba... No, questa volta lo traduciamo così. Lo traduciamo impersonale perché rimane impersonale anche in italiano. Perché non c'è il dativo da gente. Vi ricordate che nella frase che abbiamo visto prima c'era il dativo da gente. Visto che qua non c'è il dativo da gente, rimane impersonale anche in italiano. Mi sembra che si debba parlare del tipo di guerra. Infine, a te peto ut sitibi videtur disputes de hoc genere. Ti chiedo, se ti sembra, se ti sembra opportuno, se ti va, eccetera, che tu tratti di questo stile. Leggiamo anche la scheda alla pagina 216. Videor è doppio nominativo. Dal momento che videor significa sembrare, può reggere il nome del predicato, chiamiamolo così, o il predicativo del soggetto. Eh, forse. Nel senso che sembrare è un tipico verbo copulativo. Essendo un verbo copulativo si comporta come il verbo essere. E quindi ha il predicativo del soggetto, che è molto simile, dicevamo, al nome del predicato. Quindi non è detto che videor debba sempre reggere un infinito, una frase, eccetera. Videor può anche semplicemente reggere un predicativo del soggetto e basta. Capite? Come un normalissimo verbo copulativo. Ad esempio, Pater tu siratus videbatur, tuo padre sembrava arrabbiato. Magistris tuis diligence discipulus videris, tu sembri un ragazzo dirigente e i tuoi maestri. Ah, attenzione, in questo caso il sembrare può essere personale. Avete visto che prima, in italiano, quando noi dobbiamo in italiano reggere una frase, sempre sembrare è impersonale. Quando invece regge un semplice predicativo del soggetto, possiamo avere anche la prima o la seconda persona. Mi sembri disattento. Ecco, tu sembri disattento a me, lo possiamo trovare alla seconda persona singolare, no? Mentre invece sembrare che regge la frase in italiano è sempre impersonale. Quindi questo videor è doppio nominativo e molto simile all'italiano, molto facile da tradurre. Il problema è invece soprattutto la traduzione del videor personale, appunto, con l'infinito. Nominativo più infinito. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org.news